Grazie a tutti. La giunta algherese è ancora senza assessore alla cultura e al turismo. Il sindaco Conoci attende Fratelli d'Italia che deve però risolvere i dissidi interni. Puline e Monti chiedono di entrare nel gruppo ma Mulas resta fermo sulle sue posizioni. Martiri pomeriggio nuova seduta del Consiglio, stavolta in presenza dopo le polemiche di queste settimane, soprattutto da parte dell'opposizione. 17 punti all'ordine del giorno, compresa l'indicazione del comandante di Barracelli. Un saluto a tutti voi e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete visto e sentito dei titoli, tanta politica quest'oggi. Apriamo però con la continuità territoriale perché oggi è partito il nuovo corso targato Volotea. Stiamo parlando quindi dei collegamenti aerei dei Trescali Sardi verso quelli di Roma, Fiumicino e Milano o Linate. Proprio all'ultimo, ieri sono state aperte le prenotazioni, seppure con qualche disguido, soprattutto per i supplementi. Da lunedì saremo a pieno regime, fanno sapere dalla compagnia spagnola, mentre divampano le polemiche, soprattutto per alcune parole dell'assessore Todde, con Ita che, tra l'altro, preannuncia ricorso al Tar. Volotea da oggi in pista, anche a Riviera del Corallo. Gli aerei della compagnia spagnola sono decollati questa mattina dai Trescali Sardi per collegare l'isola con gli aeroporti di Roma, Fiumicino e Milano o Linate. Il nuovo corso è iniziato però con le polemiche, un po' per i disguidi che si sono verificati ieri nella prenotazione dei biglietti, con diverse persone che hanno dovuto fare i conti con i supplementi. E poi perché Ita, la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia, che aveva partecipato alle gare, ha annunciato ricorso al Tar e l'intenzione di querelare l'assessore ai trasporti Giorgio Todde. Ita non aveva i requisiti tecnici per partecipare, aveva detto ieri in aula l'esponente della Giunta regionale. Sono dichiarazioni estremamente lesive dell'immagine e della professionalità della compagnia che si riserva di tutelarsi nelle sedi opportune, avevano replicato da Ita, ricordando di aver partecipato alle procedure di gara in virtù del possesso di tutti i requisiti richiesti dal decreto ministeriale di imposizione e dalle lettere d'invito e spiegando che l'esclusione dalla prima procedura d'emergenza è stata determinata sulla base di un'interpretazione dell'Alex Specialis da parte della Commissione di Gara dei requisiti relativi alla disponibilità degli aeromobili che Ita ritiene erronea. Insomma, rischiano di esserci strascichi giudiziari. In tutto questo ci sono da registrare anche le dichiarazioni del Presidente Sulinas. Una corsa contro il tempo, ha detto, resa più ardua da errori commessi da altri che la Regione ha vinto. Abbiamo garantito ai Sardi la prosecuzione del servizio di continuità territoriale senza interruzione e senza aggiungere altri disagi a quelli determinati dall'incertezza e dal prolungarsi di una procedura che i nostri uffici sono riusciti a rendere il più rapida possibile stringendo i tempi in modo inedito e incomiabile, ha detto il Governatore. Ciò che conta è che il servizio prosegua senza interruzione. Le tante cassandre che nei giorni scorsi vaticinavano il disastro sono state ancora una volta smentite. Su alcune anomalie nell'acquisto dei biglietti, Sulinas ha garantito che sono in via di risoluzione ma anche la compagnia stessa è intervenuta. Tempi stretti abbiamo fatto i salti mortali, correggeremo gli errori e da lunedì saremo pieno regime, ha garantito. Valeria Rebasti, direttrice commerciale di Volotea per l'Italia. La politica cittadina ora perché a distanza di oltre un mese, anzi anche di più, quasi due mesi, la giunta comunale è ancora senza assessore alla cultura e al turismo. Ci sono da risolvere i problemi interni a Fratelli d'Italia ma la soluzione sembra tutt'altro che vicina. Le deleghe alla cultura e al turismo restano ancora nelle mani del sindaco Conoci e probabilmente sarà così sino a fine mese. Poi il primo cittadino sicuramente chiederà conto a Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni alla livello locale, le prese con un braccio di ferro che va avanti da settimane, deve indicare il nome del nuovo assessore ma intanto deve risolvere la questione legata alla composizione in consiglio. Monica Apolina e Giovanni Monti hanno sì la tessera di Fratelli d'Italia ma attendono ancora di entrare nel gruppo consigliare. Hanno inviato una richiesta ufficiale al capogruppo Christian Mulas che al momento però sembra non voglia saperne. È necessario fare un percorso insieme, ha più volte detto, e in una lettera i due consiglieri del gruppo misto lo ha ribadito. Allo Stato non sono in grado di esprimere giudizi sull'esito del percorso politico da voi fatto in questa consigliatura, ha scritto Mulas in una lettera indirizzata a loro. La responsabilità che mi compete nella funzione di capogruppo di un partito e straordinaria crescita è caratterizzato da nobili valori e forti ideali mi impone di porre la dovuta attenzione e fare le opportune valutazioni sul vostro radicamento della maggioranza. Posto che a partire dal vostro abbandono del gruppo della Lega avvenuto inizio consigliatura, a più riprese avete legittimamente dimostrato differenti orientamenti. Io per parte mia ho mantenuto una stretta e forte relazione con gli amici che insieme a me nella lista Fratelli d'Italia hanno partecipato alla vittoriosa campagna elettorale consentendo, grazie all'impegno di tutti, la presenza del partito in seno al Consiglio Comunale, ha proseguito Mulas nella lettera. In questi primi due anni di amministrazione ho continuato, convinto di svolgere appieno il mio dovere di consigliere comunale e nel rispetto del partito e dei componenti della lista a coinvolgere tutti nell'attività amministrativa e nelle scelte politiche effettuate. Proprio in osseguo a questo metodo democratico che ha consentito di non disperdere il patrimonio di persone, idee e ideali che caratterizzano da sempre ad Alghero il nostro partito, ritengo doveroso coinvolgere in questa nuova fase di riequilibrio i componenti della lista e gli iscritti al partito che sempre ci sono stati vicini e che da decenni ad Alghero costituiscono un baluardo di valori del centrodestra. Sempre, ha aggiunto Mulas, prestando la massima attenzione a che non si ripetano gli errori fatti recentemente in altre situazioni territoriali nelle quali il nostro partito si è isolato, non partecipando a sostenere le buone ragioni della nostra coalizione che a livello nazionale e regionale è rappresentata in modo straordinariamente efficace da Giorgia Meloni, Salvini e Berlusconi. Insomma, il capogruppo algherese di Fratelli d'Italia resta fermo sulle sue posizioni e a molti non era sfuggita la risposta a Giovanni Monti sulla questione Carabuffas con il quale lo aveva di fatto rispedito nel gruppo misto. E dopo le polemiche di queste settimane per le convocazioni in videoconferenza il Consiglio Comunale torna a riunirsi in presenza. L'appuntamento è per martedì 19 ottobre alle 16.30 nella sala conferenze del Qualtè. 17 punti all'ordine del giorno, tra questi una variazione al bilancio, poi la designazione del Capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2021-2023 e le modifiche al regolamento di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Alghero oltre a una lunga serie di mozioni per lo più presentate dai consiglieri di opposizione. Come sempre, chi volesse potrà seguire la seduta in diretta sul canale YouTube del Comune di Alghero. 49 nuovi casi di positività e un decesso sono i dati dell'ultimo bollettino Covid in Sardegna. 1.520 le persone testate e 2.555 i tamponi processati. La vittima è una 66enne residente in provincia di Oristano. Per quanto riguarda invece la pressione ospedaliera i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, dato invariato rispetto al bollettino precedente. Quelli in area medica sono 79, 2 in più rispetto al giorno prima. infine sono 1.546 i casi di isolamento domiciliare. Ci fermiamo ora per un break pubblicitario. A tra poco con la seconda parte. da lunedì 18 ottobre la viabilità di via Barracu tornerà allo stato precedente all'ordinanza resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori della rete del gas nel tratto tra via 20 Settembre e via Vittorio Emanuele in crocio con via Sanzio. Pertanto da lunedì il traffico in via Barracu tornerà con direzione da via Carrabufas a via 20 Settembre. con l'ultimazione di queste opere la parte più delicata dei lavori che ha causato disagi diversi disagi volge al termine fanno sapere dal comune restano ancora da realizzare alcuni allacci e attraversamenti senza che questo però provochi grossi disagi alla circolazione. Domani invece alle 17 nella sala riunioni della Quartessa Ial si terrà l'assemblea del quartiere della Pivarada il presidente uscente del comitato relazionerà sull'ultimo triennio seguirà poi un dibattito pubblico quindi verranno raccolte le candidature in vista delle prossime elezioni. Le candidature per il consiglio direttivo e per il collegio dei probiviri devono essere formalizzate su apposito modulo reperibile sulle pagine Facebook del comitato della Pivarada anche prima dell'inizio dell'assemblea. Sono oltre 500 le caditoie su cui l'amministrazione comunale è già intervenuta nei mesi di agosto e settembre concentrandosi sulla parte bassa della città dove il deflusso d'acqua piovana è maggiore. Proseguono i lavori e proprio in questi giorni si sta intervenendo nella restante parte della città in particolare in quelle zone dove confluiscono le acque piovane che arrivano dalle strade periurbane di Valverde della Scaletta. Saranno circa 2.500 gli interventi a lavoro finito fanno sapere dal comune. Oggi inoltre prendono via i lavori di pulizia degli alvei fluviali di competenza comunale affidati a seguito di gara per un importo di circa 115.000 euro. L'assessorato all'ambiente ricorda che le norme già prevedono che i proprietari dei terreni fronte strada debbano occuparsi autonomamente della pulizia del proprio tratto. Su questo aspetto della tenuta dell'ambiente nei prossimi giorni saranno avviati dei controlli specifici anche da parte della compagnia barracellare e non esclusa l'opportunità di emettere apposita ordinanza. Chiudiamo l'edizione di oggi del nostro telegiornale anche oggi con la vela perché dopo la pausa estiva riprende l'attività del monotipo d'altura più diffuso al mondo. La flotta sarda dei G24 sarà infatti ospite della sezione di Alghero della Lega Navale Italiana per la terza tappa del circuito zonale. La manifestazione avrà inizio domenica con le prime regate della tappa che continueranno il 24. Il 13 e 14 novembre alla tappa si affiancherà il campionato zonale G24 e la regata nazionale della classe. Sarà quindi lungo l'impegno della Lega Navale di Alghero che sicuramente metterà in campo la consueta competenza a mare e l'intramontabile accoglienza a terra. È prevista la partecipazione di tutta la flotta sarda dove sicuramente non mancheranno aria e botta dritta. Le due imbarcazioni arrivate sul podio al recente campionato italiano svoltosi nelle acque di Anzio. I due G24 della Lega Navale di Olbia e della Lega Navale della Maddalena porteranno a bordo gli stessi premiati equipaggi e sicuramente continueranno a darsi battaglia dopo le sfide tricolori che li hanno visti coprire di onore la flotta sarda nelle acque del Tirreno. Appuntamento dunque ad Alghero questa domenica per l'inizio della lunga tappa organizzata dalla Lega Navale di Alghero. Appunto per oggi è tutto io come sempre vi lascio al meteo grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie a tutti.